Regione e Inps hanno fissato il calendario per il rientro al lavoro dei 2700 lavoratori ex PIP. JASAP ICDA avvia la privatizzazione. Bagheria cittadinanza onoraria al tenente colonnello dei carabinieri Francesco Tocci. Ben trovati a questa edizione di Media News oggi venerdì 30 agosto. Regione e Inps hanno fissato il calendario per il rientro al lavoro dei 2700 lavoratori ex PIP entro il 15 settembre tutti al loro posto. Nei giorni scorsi era scoppiata la polemica. Gli ex dipendenti della social trinacria Onlus e i PIP per intenderci avevano cominciato a percepire le indennità senza però rientrare al lavoro come previsto. Adesso la Regione siciliana che finanziava la social trinacria oggi chiusa e l'Inps hanno stabilito il calendario del rientro al lavoro per i quasi 3000 ex PIP. Entro domani stando a quanto assicurato dall'assessorato alla famiglia saranno inviate tutte le prime 400 lettere di chiamata in servizio. La maggior parte del personale tornerà negli enti in cui aveva lavorato fino alla scorsa primavera. Dalla prossima settimana intanto gli ex PIP torneranno a occupare le loro mansioni in questura, prefetture e vari ospedali. L'invio delle lettere e il rientro al lavoro saranno scanditi con una periodicità che dovrebbe esaurire tutte le operazioni in meno di un mese. Insomma entro il 15 settembre tutti quanti saranno rientrati in servizio. Certo adesso il regime giuridico cambierà, non più lavoratori subordinati a tempo indeterminato e quindi minori contributi previdenziali ma con il contributo della Regione la busta paga dovrebbe comunque raggiungere gli 800 euro. E anche all'assicurazione Inail penserà la Regione con un contributo di 30.000 euro. Ma c'è una condizione, chi rifiuterà la destinazione lavorativa o chi non si presenterà al lavoro sarà espulso dal bacino garantito dalla Regione. Intanto ieri in assessorato si è registrato qualche momento di tensione all'orchiaia e lavoratori è stato chiesto di farsi fare una fototessera da allegare ai documenti. Sembra quasi una schedatura, protesta il Comitato Emergenza Palermo, ma la Fisascat CISL taglia corto. Basta polemiche e interesse di tutti che queste persone comincino subito a lavorare. Gesap, il Consiglio di Amministrazione avvia il leader per la privatizzazione comune e provincia manterranno il 10% ciascuno delle quote azionarie. Il Consiglio di Amministrazione della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, Falcone e Borsellino ha approvato all'unanimità di accettare il mandato dei soci pubblici, provincia di Palermo, comune di Palermo e Camera di Commercio che detengono insieme il 95% del capitale sociale di attivare i provvedimenti necessari e utili all'avvio e alla conduzione della procedura di privatizzazione della società. Il CDA procederà all'affidamento ad un soggetto qualificato, con procedura ad evidenza pubblica aperta, dei servizi di advisoring relativi alla vendita in blocco delle quote di capitale di cui i soci pubblici hanno manifestato la volontà di dismissione. La gara pubblica per la privatizzazione prevederà la facoltà esercitabile anche dagli altri soci, a loro esclusiva discrezione, di cedere tutte o parte delle proprie azioni, con l'obbligo da parte del soggetto aggiudicatario a rendersi acquirente di tali azioni per un prezzo pari al valore unitario offerto, nelle modalità e con i tempi che saranno indicati nel bando. La delibera del Consiglio di Amministrazione è stata sottoposta all'Assemblea dei Soci, alla presenza del Vice Sindaco Cesare Lapiana per il Comune di Palermo, del Commissario della Provincia di Palermo Domenico Tucci, del Presidente della Camera di Commercio Roberto Elg e inoltre di Alessandro Albanese per Confindustria Palermo ed Ettore Pottino per la Federazione Regionale e Provinciale Agricoltori, che ha ritenuto l'atto conforme all'interesse sociale. Il nostro lavoro consisterà nel predisporre un bando con modalità tali da salvaguardare e possibilmente incrementare il valore delle azioni, dice Fabio Giambrone, Presidente della GESAP, ma anche di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle capacità reddituali dell'impresa societaria, preservare le condizioni di efficienza gestionale. E cambiamo argomento. Morto un operaio che era impegnato nell'attività di manutenzione stradale all'interno di un cantiere mobile a Ponte Cinquearchi sull'autostrada A19 Palermo-Catania. L'incidente si è verificato in corrispondenza del chilometro 92 dell'autostrada nei pressi di Resuttano in provincia di Caltanissetta. Il dipendente dell'ANAS, Santo Gulino, di 44 anni, originario di Gangi in provincia di Palermo, si stava occupando dello sfalcio dell'erba in corsia di emergenza quando è stato investito da un'automobile. Apparso subito in gravi condizioni Gulino e stato soccorso dal personale di un'eliambulanza, scusate, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Appresa la notizia il presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci, ha espresso vivo cordoio ai familiari del cantoniere deceduto. Tragica fine per un giovane subacqueo di Palermo. Claudio Corradengo, di 21 anni, è morto nelle acque di Scopello nella zona dei Faraglioni. A scoprire il cadavere incagliato sul fondale è stato un diportista che stava facendo una nuotata con maschera e pinne. Ha subito diramato l'allarme alla capitaneria di Porto di Trapani. Il corpo del ragazzo era incagliato nelle rocce a 16 metri di profondità. Il giovane in vacanza a Scopello con la famiglia si era immerso in apnea ed è annegato. Una volta accertato il decesso per annegamento, il magistrato non ha disposto l'autopsia. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. I servizi 4G offrono nuove opportunità ai cittadini, consentendo la connessione internet superveloce per smartphone e tablet, ma possono creare interferenze alla ricezione della televisione digitale terrestre perché vengono trasmessi su frequenze adiacenti a quelle televisive. Se non riesci a vedere la tua TV digitale terrestre, puoi rivolgerti al servizio Help Interferenze per verificare se il tuo problema dipende dalla trasmissione dati dei nuovi servizi 4G per la telefonia mobile. In caso positivo, il disturbo alla TV sarà risolto senza alcun costo per il cittadino. Se sei un utente privato o un amministratore di condominio in regola con il pagamento del canone di abbonamento TV, puoi fare una segnalazione tramite web compilando il modulo elettronico sul sito www.helpinterferenze.it o numero verde chiamando l'800 126 126. In presenza di requisiti tecnici e amministrativi, il servizio Help Interferenze invierà un antennista specializzato che effettuerà l'intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi. Ulteriori informazioni sul servizio sono presenti sul sito www.helpinterferenze.it 10.000 piante di frassino e altri alberi mediterranei saranno progressivamente messi a dimora entro la fine del 2015 all'interno del Parco Cassarà dell'amministrazione comunale di Palermo in collaborazione con l'Orto Botanico dell'Università, l'Azienda Foreste della Regione Siciliana e con il supporto finanziario della Fondazione Yves Rocher. Nell'arco di tre anni il Comune procederà quindi a piantare gli alberi su un'area pari a poco meno della metà del parco, esteso in tutto per 26 ettari, che diventerà così un bosco urbano. Il Parco Cassarà, detto il sindaco di Palermo, Luca Orlando, sarà sempre più un nuovo punto di riferimento per i cittadini, un luogo di socialità oltre che un importante polmone verde nel tessuto urbano. Cambiamo argomento, individuato dalla Polizia, uno dei responsabili degli scontri tra palermitani e veronesi avvenuti lo scorso 17 agosto prima dell'incontro calcistico di Coppa Italia tra Palermo e dell'Astvelo, Verona. Vediamo. Nuova stagione calcistica e purtroppo nuovi provvedimenti d'Aspo, ovvero i divieti di accedere alle manifestazioni sportive, divieti che emette il questore a seguito di accertamenti che dimostrano i comportamenti violenti o pericolosi in occasione di eventi sportivi. Ricorderete cosa è successo a Palermo lo scorso 17 agosto, prima del fisco di inizio della partita valevole per la Coppa Italia di calcio che ha visto affrontarsi la squadra di casa e l'Ellas Verona, una fitta sassaiola scatenata da una quarantina di tifosi rosa-nero contro un pullman a bordo del quale erano presenti tifosi scaligeri alla rotonda di piazza Giovanni Paolo II ha preceduto un violento contatto tra opposte tifoserie. In quell'occasione le forze dell'ordine tardarono parecchio ad arrivare, secondo molte testimonianze alla fine si contarono quattro feriti lievi. In seguito alle indagini la polizia ha individuato un ragazzo palermitano piuttosto giovane che avrebbe ammesso di far parte di una frangia del tifo organizzato del Palermo e di essere giunto nel capoluogo lo stesso pomeriggio degli incidenti da Sant'Agata di Militello dove vive e di avere partecipato coscientemente agli scontri. Nei suoi confronti è stato quindi emesso un daspo di 5 anni oltre che la misura dell'obbligo di firma. Poi altri tre palermitani sono stati denunciati per danneggiamento di impianti sportivi. Nei loro confronti è stato emesso un daspo di 2 anni. Secondo la polizia lo scorso 11 agosto durante l'ingresso allo stadio Renzo Barbera dove si sarebbe disputato l'incontro di Coppa Italia tra Palermo e Cremonese i tre spazientiti per l'attesa avrebbero abbattuto a calci e spallate il cancello del tornello consentendo l'accesso in curva nord a un centinaio di tifosi, molti dei quali senza biglietto. Controlli straordinari della polizia tra ieri pomeriggio e la notte passata nella zona del centro storico cittadino a Palermo. Gli agenti del commissariato Reto Stazione hanno presidiato il quadrivio determinato dall'intersezione stradale tra la via Roma e Corso Vittorio Emanuele. Particolare attenzione è stata riservata anche alle zone del Foro Italico e via Lincoln nei pressi della stazione. Controllate 75 persone, 13 veicoli e 24 motoveicoli, ben 7 motoveicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per circolazione senza copertura assicurativa. Sono state inoltre elevate sanzioni per un importo complessivo di circa 6.500 euro, tra l'altro per mancata esibizione dei documenti, mancata revisione, veicolo privo di targa. Nel contesto dei controlli sono stati indagati in stato di libertà 4 persone per guida senza patente in violazione dell'articolo 116,15-17 del Codice della Strada. Bagheria, cittadinanza onoraria al tenente colonnello dei Carabinieri Francesco Tocci, l'ufficiale dell'arma e un riconoscimento al lavoro di tutti i miei colleghi. La nostra comunità ha voluto riconoscere il ruolo, i sacrifici, l'impegno che lei e il suo omologo della Polizia, il dottor Luca Salvemini, avete manifestato nel periodo di permanenza Bagheria, conferendole la cittadinanza onoraria. Come ha accolto questa decisione, questa cosa importante per una comunità? L'ho accolta indubbiamente in termini positivi, sono gratificato di questa idea, di questa decisione presa dal Sindaco e dal Comune di Bagheria. Anche in questo caso però mi sembra giusto e doveroso sottolineare il modo in cui io approccerò a questa possibilità, vale a dire che io mi sento più che la singola persona destinataria di un riconoscimento, il rappresentante di un'istituzione. L'acquiazione sul territorio, come dicevo, è un'azione sempre corale, coesa e unitaria. Quindi ho accettato di buon grado e in questi termini mi sono proposto con la mia scala gerarchica che ha aderito a questa iniziativa. Però io riceverò la cittadinanza onoraria soprattutto in quanto a nome e per conto dei carabinieri della compagnia di Bagheria che hanno lavorato molto e stanno ancora adesso continuando a lavorare. E ci fermiamo adesso per una seconda pausa pubblicitaria. I servizi 4G offrono nuove opportunità ai cittadini, consentendo la connessione internet super veloce per smartphone e tablet, ma possono creare interferenze alla ricezione della televisione digitale terrestre perché vengono trasmessi su frequenze adiacenti a quelle televisive. Se non riesci a vedere la tua tv digitale terrestre, puoi rivolgerti al servizio Help Interferenze per verificare se il tuo problema dipende dalla trasmissione dati dei nuovi servizi 4G per la telefonia mobile. In caso positivo, il disturbo alla tv sarà risolto senza alcun costo per il cittadino. Se sei un utente privato o un amministratore di condominio in regola con il pagamento del canone di abbonamento tv, puoi fare una segnalazione tramite web compilando il modulo elettronico sul sito www.helpinterferenze.it o numero verde chiamando l'800 126 126. In presenza di requisiti tecnici e amministrativi, il servizio Help Interferenze invierà un antennista specializzato che effettuerà l'intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi. Ulteriori informazioni sul servizio sono presenti sul sito www.helpinterferenze.it San Nicola Larena, pontigli galleggianti abusivi al porticciolo turistico, sequestrati nei giorni scorsi gli accessi alle banchine di ormeggio per una superficie di circa 5.000 metri quadrati di specchio d'acqua. Abbiamo ascoltato il tenente di Vascello, Nicola Silvestri. Siamo con il tenente di Vascello, Nicola Silvestri, comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Porticello. Una importante operazione che ha cercato di rimettere ordine e legalità all'interno di una situazione che non presentava questi requisiti. Ci riferiamo all'operazione di qualche giorno fa, che ha avuto anche un grosso rimbalzo mediatico, al porticciolo turistico di San Nicola Larena. Ecco, cosa accadeva in quel porticciolo? Cosa avete fatto? Abbiamo eseguito un provvedimento di sequestro che ha riguardato una porzione del porticciolo di San Nicola, relativa a circa 5.000 metri quadrati di specchio d'acqua, su cui insistevano dei pontili galleggianti, che versavano in una situazione di incertezza amministrativa. Si trattava di pontili che effettivamente erano rimasti lì, di proprietà di un ex concessionario attualmente appunto che non aveva concessione e che determinati soggetti, su cui ovviamente le indagini sono ancora in corso, sfruttavano per guadagnare in debita... Esattamente, esigere illecitamente... Era scaduta la convenzione, con questo titolare di concessione, scaduta la concessione, dei soggetti privati gestivano illecitamente questi pontili. Con quali conseguenze? Esattamente. Per una comprensione magari più semplice possiamo semplificare e definirle una sorta di parcheggiatori abusivi di quella porzione di porticciolo. Quindi diciamo che il reato è illegittimo, cioè occupazione illegittima di demanio. C'è anche un risvolto di carattere fiscale, volendo? Quello senza dubbio, anche quello ovviamente noi abbiamo agito in prima battuta per l'occupazione abusiva in modo da far luce sul... e ci auguriamo che questo serva pure per sistemare e regolarizzare come ben merita il porto di San Nicola, l'arena. È nato a Palermo il Fab Lab, acronimo di Fabrica Laboratorio Fucina di Nuove Tecnologie e Nuovi Professionisti. Il 5 settembre un importante appuntamento per Fab Lab Palermo la presentazione di una nuova stampante tridimensionale. Innovazione e condivisione dell'innovazione a Palermo nasce il Fab Lab, di che si tratta? Allora, i Fab Lab sono una rete di laboratori digitali inventati dal MIT intorno al 2000 che permettono di creare una nuova tipologia di artigiani, artigiani digitali. Attraverso nuove tecnologie come stampanti tridimensionali o fresa a controllo numerico si possono realizzare dei nuovi oggetti che uniscono al digitale l'approccio tradizionale artigianale. I Fab Lab sono una rete internazionale, essendo nata in America, ma poi si è diffusa in tutto quanto il mondo. Adesso è arrivata anche in Italia e finalmente anche a Palermo c'è il Fab Lab, che in questo momento è il Fab Lab più a sud d'Italia. Il 5 settembre avete in programma una iniziativa importante. Cosa succederà? Allora, il 5 settembre, dato che c'è stato un fiocco rosa il Fab Lab, è arrivata la stampante 3D, noi abbiamo pensato di invitare un ragazzo, un ingegnere, quasi ingegnere catanese, che ci verrà a trovare col suo Spider Bot, un robottino tecnologico gestito da Arduino, al quale noi durante la giornata costruiremo le gambe, in pratica, quindi disegneremo le gambe e le costruiremo. Questo robot poi verrà portato dal Fab Lab insieme al progettista a Roma, alla Macfair, la fiera internazionale che racchiude un po' tutti i makers che arrivano da tutto il mondo, che sarà esplicativo delle nuove tecnologie e del nuovo modo di produrre, che è quello appunto dei makers, che ha la funzione fondamentale di contrastare la produzione industriale che ha portato agli scompensi economici, sociali, eccetera, eccetera. Quindi, per sintetizzare, la produzione dei makers è una produzione che vuole essere virtuosa e controtendenza utilizzando la tecnologia in maniera pulita. Domani alle 21.30 appuntamento con il Festival Internazionale Palermo Classica nel chiostro della Galleria d'Arte Moderna. Insieme sul palco due grandi artiste, Katrin Finch all'Arpa e Katrin Christian Salflauto, vincitrici di diversi premi e impegnate nella tourne in Europa, Asia e Africa. In programma l'esecuzione di una composizione di Marco Betta tra i più importanti compositori italiani contemporanei dedicata a Degno Morricone. Bene, con questo è tutto. Io vi rimando alle prossime edizioni del nostro notiziale. Arrivederci. Grazie.